A vincere la paura di perdere nella sfida salvezza in cui i punti in palio avevano un peso specifico raddoppiato. Finisce senza reti tra Bitonto e Gravina al campo sportivo Antonucci di Bitetto, anche se non sono mancate le emozioni. Il 3-4-2-1, quello scelto nuovamente dal tecnico infantino dopo il Capitale, successo casalingo contro il Gallipoli. Santoro punta centrale, assente da Silva, con l'inserimento dal primo minuto di Dejana Testoni all'esordio e Vidala alle spalle. Coppola e Lauria in cabina di regia. Subito in campo, gli ultimi arrivi anche in casa Bitonto, con modesto Santo Ruvo a schierare ventola in avanti il titolare, con Palazzo e Despinara, altro neo arrivato. Si fa preferire in fase di fraseggio, però il Gravina almeno in fase iniziale, che dopo un quarto d'ora di studio prova ad affondare il colpo con il cross di Chiara Dia da sinistra, la sponda di Santoro e il tocco di Orlando a porta praticamente vuota ma da posizione defilata, che coglie il palo della porta a difesa da Diamè. Salgono poi di tono i padroni di casa, con Stasi ci prova dal limite, sfera sul fondo, sugli sviluppi di un corner e il colpo di testa di Aprile a mettere solo i brividi a Vlascianu. Ancora impreciso il Bitonto, questa volta con Fioretti, smarcato in aria da un tacco di Palazzo, ma il suo tiro da posizione favorevole non trova lo specchio della porta. E anche la parola fine sul primo tempo. Parte nuovamente meglio il Gravina nella ripresa davanti a un timido sole dopo tanta pioggia. Il tiro di Chiara Dia, bloccato a terra da Diamè, sempre il capitano della Gravina impegna l'estremo difensore di casa, che deve rifugiarsi, questa volta in corner. C'è una posizione di offside in partenza per Gomez, che sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Palazzo segna il vantaggio di casa, ma il gioco è fermo per la segnalazione dell'assistente arbitrale. Nulla da fare e Bitonto ancora in proiezione offensiva, questa volta con il neoentrato di Michele liberato al tiro da Palazzo, ma in Vlascianu a chiudere con un intervento decisivo lo specchio della porta. Ci prova anche Spinar nel finale, con un tiro dal limite che si spegne però sul fondo di Poco. E anche la parola fine sul match. Bitonto e Gravina non si fanno male e restano appagliate a quota 13 in classifica, con la Palmese, che a questo punto ha raggiunto le due squadre dopo il successo esterno nell'anticipo di sabato pomeriggio. Squadra di modesto Santoruvo, che trova però un minimo di continuità, con due pareggi e una vittoria, domenica dovrà vedersela sul complicatissimo campo della capolista Altamura. Il Gravina tornerà invece tra le mura amiche, questa volta per affrontare la Gelbison.